Impianto di compostaggio a Carovigno? Con molta probabilità lo decideranno i cittadini attraverso un referendum. E' quanto è venuto fuori dal secondo incontro pubblico che si è svolto ieri sera nell'Aula Consigliare della città dell'Anzegna. Pochi i presenti, soprattutto pochi i rappresentanti politici, pochi anche i cittadini, nonostante la presenza dell'ingegnere Pietro Cafaro, tecnico del settore, che ha illustrato come funziona un impianto di compostaggio. Non si tratta di un'altra discarica, anzi, si tratta di ridurre il rifiuto che va in discarica. Vogliamo fare gli ambientalisti, però poi non vogliamo trattare i rifiuti in maniera adeguata. Il rifiuto va trattato, o lo si brucia, che era la vecchia mentalità, oppure si fa la raccolta differenziata, l'impianto di compostaggio, il riciclaggio delle materie riciclabili. Questa è la gestione del rifiuto più ambientalista possibile. Parliamo un attimo di inquinamento, questa parola che fa tanto paura, ovviamente, a tutti i cittadini, giustamente. Quanto inquina un impianto di compostaggio e quanto inquinerebbe quello di Bincaroviglio? Zero. Un impianto di compostaggio non inquina minimamente, se è progettato in maniera adeguata, chiaramente, e se è gestito in maniera corretta, non da scienziati, ma in maniera onesta. Perché? Perché non ha agenti chimici da trattare. È un trattamento normale, naturale, forzato semplicemente nella velocità per effetto dell'aria, solo per aria. Insomma, mi pare di capire che la provincia di Brindisi e Caroviglio potrebbero solo avere un beneficio da un impianto di compostaggio. Assolutamente sì. È solo un beneficio per un impianto di compostaggio perché significa trattare bene dei rifiuti, risparmiare per non mandarli alla Terzan di Modugno o ad altri comuni dove ci stanno questi impianti fuori provincia. Nonostante tutto, c'è chi ha provato a portare una discussione tecnica, meramente tecnica, qual era quella nelle intenzioni dell'amministrazione comunale su questioni politiche. Situazione che ha fatto davvero infuriare il sindaco Mele e anche il presidente del Consiglio, Corrado Tarantino. Io non voglio gli scienziati, io voglio parlare della città di Caroviglio che ho a cuore e lo dimostro tutti i giorni. Allora oggi, nel momento in cui la città viene chiamata a decidere se fare o meno l'impianto di compostaggio, non deve guardare a quello che è successo a Chernobyl o alla centrale a carbone, perché stiamo parlando degli anni 50, degli anni 60. Oggi questa città è amministrata da un'amministrazione che è un'amministrazione assolutissimamente trasparente. E sulla trasparenza di questa amministrazione ci sono gli atti giornalieri che grazie al Signore siamo talmente attenzionati che non ce lo sogneremmo neanche di fare un atto, voglio dire, non trasparente. Voi stasera non avete dato sicuramente un esempio di equità e di trasparenza, perché io capisco l'opinione, ma non capisco quando qualcuno mi viene a dire aiuto al lupo al lupo, il compostaggio è la rovina del Paese, addio al turismo, addio all'agricoltura, addio, addio, addio. No, il compostaggio servirebbe alla città di Carovigno a diminuire la borletta, perché oggi l'umido costa andarlo a buttare tre volte in più nell'anno scorso, perché il ciclo dei rifiuti non si chiude. Fare il Presidente del Consiglio significa mettere il cervello all'ammasso, come fanno molti, e quindi sento il diritto e il dovero di esprimermi come sono arrivato a fare, a dire come la penso le questioni. Sulla questione che diceva prima Tonia Gentile, rispetto a stamattina, io mi sono incazzato, perché non accetto morali e moralismi da ambientalisti dell'ultima ora, né da chi ha amministrato questo Paese 20 anni e vuole fare la morale a me che lo amministro da tre mesi. Molto banalmente, ci tengo a dirlo perché ogni cosa vada al posto suo, al posto giusto. Insomma, dopo tre ore di discussione su come funziona un impianto di compostaggio, quale potrebbe essere l'impatto ambientale e soprattutto quale potrebbe essere anche l'impatto dal punto di vista economico sul territorio, si è giunti ad un'unica decisione, quella probabilmente di affidarsi il prossimo agosto ad un referendum. Ma l'incontro deludente non per la questione tecnica, che insomma voglio dire capire che cos'è un impianto di compostaggio, non è che ci vuole la scienza. L'incontro è deludente perché da questi incontri pubblici si vuole una partecipazione più attiva da parte della città e soprattutto ci vuole un'onestà intellettuale da parte del cittadino. Mi sembra di capire che questa sera c'era poca onestà, c'erano degli scienziati che volevano mostrare solamente il proprio sapere, di fronte a una situazione che è abbastanza seria per la città, perché fare l'impianto di compostaggio secondo me vuol dire un'opportunità in termini economici considerata il ciclo dei rifiuti da chiudere assolutamente, che è necessario che si faccia a Caravigno, si faccia da un'altra parte, assolutamente sensibilizzare i cittadini è sempre un fatto positivo, però non capire che è un'opportunità, secondo me è un'occasione che potrebbe essere persa. Dunque Sindaco sarà il referendum? Guardi, il referendum sarebbe bello, bisogna vedere se ci sono le condizioni, siamo al 15 di luglio, per me sarebbe il referendum, vediamo se ci sono le condizioni di farlo, soprattutto le condizioni di carattere economico, che è quello che mi preoccupa di più. Insomma Caravigno attende di conoscere quale sarà la decisione all'unanimità da parte dei cittadini, se cioè l'impianto di compostaggio potrà nascere in contra da deserto, oppure si rifiuterà a favore invece di altri comuni, che probabilmente hanno compreso l'importanza dell'impianto, e hanno rilanciato la loro candidatura, così come continua a fare Torre Santa Susanna. Torre Santa Susanna credo che sono più avanti come mentalità, perché loro addirittura ne avevano chiesto di farlo da 60 mila, quindi io agli amici di Torre consiglio che un impianto di 60 mila tonnellate, ma questo glielo ho detto già in riunione Oga, è un impianto a rischio, un impianto da 20 mila tonnellate, tre impianti da 20 mila tonnellate per la provincia di Brindisi, è più che sufficiente per fare dei buoni impianti a dimensione, diciamo di 4-5 comuni, 6 comuni massimo per impianto, dove anche l'impatto ambientale dei camion che girano con i rifiuti sarebbe un impatto minimo, e quindi questa è la soluzione giusta, che è stata la mia prima battaglia, è una battaglia comunque che ho portato a fondo. In tutto il mondo il rifiuto è una risorsa, perché a Caraviglio no, con questo dico, facciamoci questo referendum, andiamo sulle piazze e andiamo a dire come la pensiamo, ma con onestà intellettuale.